Buongiorno a tutti, mi trovo all'interno del centro sportivo dell'Agnane Calcio per seguire la partita tra Agnane Calcio e Cineto Romano, partita valida per l'ottava giornata del campionato di seconda categoria, Girone F di Roma, le squadre hanno fatto l'ingresso all'interno del campo da gioco, il saluto con l'arbitro, scambio poi dei Gagliardetti e il saluto con i giocatori avversari, quella zona di campo laterale in favore della Cineto, Majorani sul punto di battuta, palla lunga di Majorani, nella zona di Proietti, Cicchitano, cercato la conclusione di prima verso lo specchio della porta, palla fuori, di punizione laterale in favore della squadra ospite, pallenare di rigore, ora Petrella riconquista questo pallone, Petrella pensa al lancio lungo, l'appoggio corto nella zona di Izzullian, Gipa si propone sulla fascia, viene servito dal numero 11, Gipa punta l'avversario, Gipa converge verso il centro, l'appoggio per Cicchitano, Cicchitano si coordina per il tiro, palla che esce, non trova lo specchio della porta, il possesso palla, ora del Cineto sulla fascia, appoggio corto, poi la palla verticale, la copertura da parte della difesa, il pallone rimane lì, Pinto, la palla verticale di Pinto per Bitocchi, Bitocchi palla al piede, Bitocchi porta questo pallone in area di vigore, ancora Bitocchi, Bitocchi, una conclusione, trova il gol, 1-0 per Laniene, gol di Bitocchi che sblocca la partita, al minuto 15, poi Pomponi, Zamora si ritorna dal portiere, Salvati, la palla verticale di Salvati per Latini, recupera palla Petrella, Cicchitano, Cicchitano, pensa al tiro, Cicchitano, Cicchitano, ma che gol ha fatto al numero 6, gol da parte di Cicchitano, doppio vantaggio per Laniene, 2-0, la copertura da parte della difesa, poi Cicchitano, Cicchitano ha cercato la conclusione verso lo specchio della porta, Palla esce fuori, Gipa, gol da parte di Gipa, clamoroso, il gol da parte delle numero 11, gol del 3-0, il forse sto palla da parte della Niene, la palla verticale, Zulian, il gol da parte di Zulian, Colpisce la traversa, segna il gol del 4-0, avanzare palla al piede, la copertura della difesa, il possesso palla, la parte di Pomponi, cade a terra il numero 4, fallo e fischio, posizione in favore del Cineto, la palla verticale, c'è un po' di campo per avanzare, appoggio corto per Proietti, la palla verticale, la conclusione verso la porta, il gol da parte della squadra ospite, gol del 4-1, non viene servito, Zemora numero 3, cambia il fronte di gioco, il possesso palla Cineto, la palla sulla fascia, la copertura da parte di Orfei, Orfei, Latini riconquista questo pallone, Latini in area di rigore, l'appoggio corto per Pomponi, Pomponi sbaglia il controllo, poi l'appoggio al capitano, la conclusione da parte di Proietti, palla alta di poco sopra la traversa, in area di rigore, la copertura della difesa, il colpo di testa, Zemora, palla al piede, l'appoggio corto orizzontale, poi la verticalizzazione per Proietti, ancora palla al piede, la squadra ospite, la palla verticale, Proietti, Latini, la palla verticale, stoppa questo pallone, in area di rigore, la parata da parte del portiere, alla fine poi il pallone è entrato in campo, Lanza, sigla il gol del 4-2. Zemora recupera palla, Frisciotti, Gipa, la palla verticale di Gipa per Altamura, Frisciotti allunga la falcata al numero 14, Frisciotti mantiene questo pallone in campo, Frisciotti poi scivola, occasione per la squadra di casa con Frisciotti che non è riuscito ad arrivare su questo pallone, ricomincia poi a girare palla, la palla rimane lì, la conclusione di Gipa, da un errore della difesa del Cinedo, trova il gol del 5-2. Altamura, su punto di battuta, anche Scicchitano, che la tocca, parte, Altamura, Altamura, il gol di Altamura, gol delle 6-2. Rubino, colpo di testa da parte di Proietti, la copertura di Scicchitano, ancora Scicchitano, il fischio da parte dell'arbitro, punizione.